Io aiuto la povera gente del mare, quei poveri indipresi, che non hanno nessun altro a cui potersi rivolgere. Io aiuto la povera gente del mare, che non hanno nessun altro a cui potersi rivolgere, che non hanno nessun altro a cui potersi rivolgere. A chi vorrà la funzione, tutti vogliono dare un suo aiuto, io dico, sono qua.